Ancora in lieve aumento i contagi nei comuni vesuviani. Non è ancora possibile considerare questa pandemia terminata o in via di soluzione. I dati continuano a descrivere una situazione non allarmante ma che registra ancora un lieve aumento dei contagi. Nel comune di Torre Annunziata si registrano due nuovi casi di contagio a fronte di 59 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 3,39%. Non ci sono state guarigioni. A Bosco Reale dal 7 al 18 luglio si sono registrati sei casi di positività al covid-19 su un totale di 287 tamponi effettuati, con una percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati del 2,09%. Nel comune di Torre del Greco, secondo il bollettino di ieri sera, si registra un nuovo positivo ed anche un decesso. Si attestano anche due guariti. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati, con 87 attualmente positivi, di cui 21 ospedalizzati.